Torna subito in casa. Grande fratello, il concorrente esce dalla porta e dalla regia cominciano a urlare. Resta chiuso fuori dalla casa del Grande Fratello 2023. Panico per il concorrente. Tutto è successo dopo che lo scorso sabato, al Grande Fratello, durante l'ultima puntata, si è verificato un colpo di scena clamoroso. Tutti oramai sapranno che uno dei partecipanti alla dinamica più intensa del momento, Mirko Brunetti, ha abbandonato la casa. Tuttavia, Perla e gli altri concorrenti sono stati convinti per giorni che si sia trattato di uno scherzo e che Mirko sia ancora all'interno, chiuso nel Tugurio. Ed è proprio a questo punto, in consapevolezza di questa convinzione, che un concorrente ha deciso di verificare autonomamente se fosse vero o meno. Così, durante la serata del 10 dicembre 2023, è successo il patatrack. Alcuni concorrenti hanno infatti notato che la porta del Tugurio era socchiusa. Vittorio Menozzi ha quindi pensato di intrufolarsi dentro, ma purtroppo Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi la hanno chiuso all'interno facendogli uno scherzo. Resta chiuso fuori dalla casa del Grande Fratello 2023. A questo punto è stato immediato l'intervento della regia che ha detto ai microfoni della casa, Vittorio. Torna subito indietro. Il giovane a questo punto si è reso conto di essere rimasto chiuso dentro il Tugurio, ma chi è che mi ha chiuso qui? Poco dopo, quantomeno, i ragazzi hanno compreso che Mirko è stato davvero eliminato dal gioco. Ma attenzione, perché non solo Vittorio pensa che Mirko non sia stato davvero eliminato. Tra loro c'è anche l'ex fidanzata di Brunetti, per la vatiero che ha detto, ragazzi no, non penso che sia uscito davvero. Non credo che sia finita qui, penso che magari lunide lo fanno tornare. Giuseppe dice che è uscito e che lui ha visto proprio. Io non ci credo, magari adesso sta in Tugurio. Diceva le stesse cose a me e Greta. Anche prima lei mi ha detto certe cose ed erano identiche a quelle che mi diceva prima che lei entrasse. E ancora, io vuoi o non vuoi mi sono esposta e sono stata me stessa in tutto. Io perla, sono venuta qui con le mie idee e senza risentimenti. Vuoi o non vuoi sono stata quattro anni con lui e il bene resta. Anche se lui può aver fatto e detto cose che mi hanno molto ferita vuoi o non vuoi l'affetto c'è e non posso dire il contrario.